amici silvestro montanaro invita una riflessione sul tema gli schiavi della tratta in particolare con la visione del film amistad due scene una drammatica che riproduce il viaggio degli schiavi tratti dall'africa fino alle piantagioni americane e la scena finale quella della memorabile a ringa ripresa nel film che ci richiama a fare memoria del legame con il nostro passato per accedere al video accedere al link del google drive un caro saluto a tutti voi e buona visione